Non c'è nulla da temere nell'utilizzo dei social network, anzi sono un'importantissima opportunità e risorsa per le attività produttive e la sintesi di quanto affermato nel seminario Ruvo si forma tenutosi presso il Museo del Libro e della Cultura nel quale sono intervenuti Luciano Pavone, Life and Business Coach e Sabino Cianci, specializzato in social marketing. Non è importante quello che si dice ma come lo si dice, è una frase che ha un significato molto più pregnante di quello che in apparenza emerge, soprattutto se applicata nell'ambito del commercio. Assenza di mordente, scarsa assertività e incapacità di mirare e colpire l'obiettivo con una comunicazione chiara ed efficace possono incidere negativamente sulla realizzazione di buoni profitti, soprattutto se poi la comunicazione avviene attraverso i social network. Proprio perché si impari ad essere ottimi comunicatori aziendali sui social network, la Confcommercio, in collaborazione con la Mediterranea Immobiliare di Vincenzo Minafra, ha organizzato giovedì 21 aprile 2016 un seminario per mettere a punto questi temi. Ottima partecipazione degli operatori del settore che al termine del seminario sono stati immortalati in un selfie scattato dai due protagonisti del seminario.